Musica Ok, ok, devo inserire il nome, nome, l'email, ok Bam, banane, gmail, chioccia, gmail, punto, com Vabbè, no, scriviamo l'email, veramente Buonasera amico, sei benvenuti in questo nuovo video, io sono Franci e oggi giochiamo a trivia, trivia, coso, kingdom Vabbè, facciamo, dobbiamo indovinare dei personaggi, no, più o meno dobbiamo fare dei quiz su dei personaggi famosi Io ho scelto Fabi J, perché è un youtuber che mi piace molto Vai, domanda normale, va bene Quando Dexter fece, oh, aspetta, questo è il quiz di Fabi J, Fabi J inizialmente faceva video Ehm, faceva video, blog, quiz, horror, divertenti Horror, indovinato, yeah Continuo Ehm, un'altra domanda normale No, ho sbagliato, ah, il telefono Ehm, ecco qui Di che colore era la camera di Fabi J prima di essere dipinta a casa dei suoi genitori? Giallo sbiadito Ok Ehm, ah, il re Se rispondiamo correttamente vinciamo una corona Fabi J si è rotto mai un rotto del corpo? Sì Ehm, il dito, mi pare No, non so, il braccio, non mi ricordo Ehm, se abbiamo cinque corone, io devo abbassare il volume Non si può, eh, vaffanbagni Ehm, un mago La domanda è molto difficile Fabi J di che cosa ha paura? Dei ragni Sono proprio un fan Non mi interessano le vite Domandina normale Quanti iscritti ha ora? Ma, ora non è il 2016 Non è il 2311 2016 Lui è rimasto il 23 novembre 2016 Adesso siamo Penso ne aveva 3 milioni nel 2016 Sì Adesso ne ha quasi 6 milioni 5 milioni e 900 mila Ehm, qui Un pirata Ah, mi vengo il tesoro dei pirati Quanti bisogni ha fatto su Sliterio? Dieci? Sì Ah, proprio di Sliterio Oggi faccio anche una bisogni su Sliterio Io Sliterio Anch'io lo faccio Qual è il vero nome di Fabi J? Lorenzo Dai, qualcosa di più difficile Fabi J è mandato ad Asterdam Ehm, no No, era sì Cinque secondi fa Qual è qualcosa di più difficile? Ho sbagliato No, non voglio nessuna seconda scelta Allora cambiamo Ok, allora mettiamo un quiz su Lion Vai, vai, vai Cerchiamo Vediamo se cerchiamo When When Game Speil Lion 2020 Ecco Vediamo Un gioco adesso Ehm Ok Devo rispondere a due domande corrette su tre Se rispondo a tre su tre Posso raccomandare lo stesso Cantante preferito di Stray? Ehm Lady Gaga? Ma Non so Non so Ma è un quiz di Lion Vabbè Chi è presente Nel nuovo libro di Agno? Io ce l'ho Lion Anna Lion Anna è a Lion Lion Anna è Cico Ehm Qual è il cantante preferito di Alex? Ehm 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 Sì Ehm Ehm Taylor Swift Ah Re Alex Re Alex Ora che c'è Io sono Ed io 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 sono io E voglio la colora Di che questa citazione è strecatto Ovviamente Ehm Se vedete il mio nome Io sono quella a sinistra Con la faccia nera Con Con puntini di rosa Mi sono chiamato Rocco Gigio Un nome a caso Lion e Anna Cosa sono? No Sposati Non fratelli No amici Nessuna di queste Poi con la foto di Anna Re Alex Sovrano del Regno Rispondi correttamente A una domanda Va bene Come si chiama il cane di Lion e Anna Cara? Vediamo Dai siamo a pari con questo qua Vai Ehm Domandina Cara che razza è? Ehm Doppia chance Ho una doppia chance adesso Labador Oh no Ehm Golder e le driver Sì Io non conosco Le razze dei cani L'ho fatto a caso Ehm Tito Tito la guida Ah lui mi dice Dove è il re? Chi è più attivo su Instagram? Il più attivo su Instagram Penso Lion Strecato Nooo Le facciamo allora Non voglio Nooo Aiuto Non si sente niente Quella pubblicità è fortissima Non si sente Niente Niente Vabbè Proviamo un altro quiz Di sicuro un quiz Non esiste Allora Quiz su Chi c'è? Chi guardo tanto Youtuber Ehm I Pantellas Sì io li guardo Abbastanza Allora Ninja mi taglia due domande Ok Due quali Come si chiamano? Daniel e Jacopo Questa non c'era manco bisogno D'aiuto Era facile Ehm Vabbè Domandine In che video sono qui? Ehm La prima? Nessuna Ah Lo rifacciamo perché ho sbagliato subito Ovviamente Basta questa pubblicità Sentite che rumore fa? È un casino Caos Io sono Qui E sono questo Basta Non mi interessa Oh Ok Di nuovo con i Pantellas E riproviamo Re Alex Al primo Chi fa l'estate Chi fa l'estate nel video Se l'estate fosse una persona Eh D'anni fa l'estate Sì Allora Uno a zero Qui Domandina Chi compie gli anni a luglio Ehm Facciamo una bomba Jacopo Sì Ehm Questa Pirata Devo rispondere Devo rispondere a tre domande Correttamente Bin con un tesoro Va bene Hanno partecipato a qualche programma A Colorado Lo sapevo Mamma Mamma Pantellas Cosa disse Nel primo episodio Quando nasce Daniel Ehm Ehm Saltiamo Secondo Jacopo Daniel è Gay Sì Veramente Jacopo E Daniel Oh mio Dio Marangiola E Mannati No Mannati a Marangiola Al contrario Non avevo letto tutto No Vabbè Facciamo qui su Basta Harry Potter Facciamo Dragon Ball Italiano Che io sono fan Ok Eh Domandina Chi è il re Vegeta Per Vegeta Il padre Mamma mia Eh Che altro c'è Il ninja Qua Dopo quanti anni Alla fine di Dragon Ball Z Inizia Dragon Ball GT 5 Sono proprio fan In realtà abbastanza fan sono Di GT 98 Quale Android viene risvegliato Per primo dal Dottor Gero Vediamo se riesco ad abbassare il volume Ehm Primo E 17 Ehm Andiamo avanti Un'altra domandina Da chi viene rimandato Se L'Android 16 Se Poi Vai Ok Lui mi dice Dove si nascondere Da quale desiderio È stato generato Sharon San Sharon Ehm 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 Resuscitare Bora Cancellare Ehm Non lo so Cancellare Far ringiovenire Il grande mago piccolo No Allora Ho detto giusto Vabbè ragazzi Spero che Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per ricevere Le notifiche Nel mio video Ciao pubblicità Adios Ciao